Oggi è il giorno speciale di Lagba Omer, la festa di Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autore dello Zohar, la persona che ha cominciato a divulgare la parte più profonda e più segreta della Torah e ognuno di noi oggi deve avere una grande gioia e prendere le buone risoluzioni di studiare la dimensione profonda della Torah, specificamente l'altagna che diciamo è la parte più pratica, più accessibile, più realizzabile nella nostra vita in maniera concreta della parte più profonda della Torah, magari lo Zohar è un po' difficile, è facile sbagliare, invece l'altagna prende questi concetti dallo Zohar distillati e digeriti per la mente umana che possiamo veramente comprenderli anche persone semplici come noi. Oggi è usanza fare una grande festa, falò, archi e freccia, eccetera, ma la cosa principale di educare i bambini, dare loro la gioia di studiare la Torah e fare Mitzvot e non soltanto accontentarsi del livello superficiale della Torah, della legge ebraica, del Talmud, ma andare a fondo, studiare la parte interna della Torah così che possiamo servire Dio con gioia con amore, con timore, come Dio si aspetta da noi. Shalom a tutti!